Tutti dalla Tg regionale per sordi, un detenuto evade dai domiciliari pur avendo il braccialetto elettronico, ma i carabinieri lo ritrovano e lo arrestano a Livorno. Ai militari avrebbe detto che era uscito per andare a comprare una bottiglia d'acqua. Sono stati i carabinieri della stazione di Montenero, allertati dalla centrale operativa per un allarme, a sorprenderlo mentre faceva rientro nella casa da dove non si sarebbe potuto allontanare e lo hanno arrestato in flagranza. L'uomo, 41enne, italiano, è ora accusato anche di evasione. E' aggressione ieri in carcere a Pisa dove un detenuto tunisino senza motivo ha colpito un agente prima con un pugno al volto e poi con il bastone di una scopa. A renderlo noto il segretario regionale per la Toscana del SAPE, Francesco Oliviero. Il detenuto è stato trasferito a Pisa per aver creato disordini nell'istituto di provenienza. L'agente è stato trasportato al pronto soccorso dove gli sono state accertate ferite guaribili in 21 giorni. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, dopo la morte di un giovane rider avvenuta sabato sera in un incidente stradale a Firenze, ha affermato che per i riders abbiamo più volte detto che è necessario individuare il rapporto di lavoro nell'ambito di un contratto collettivo nazionale, ma soprattutto viene chiesta una nuova disciplina a tutela dei lavoratori che fanno questo tipo di attività. Inoltre regolare in maniera semplice ed efficace il settore del delivery. Aggiunge ancora Nardella, come città di Firenze lanceremo ai nostri parlamentari del territorio e anche al resto del paese la proposta di scrivere insieme ai rappresentanti dei riders una norma di questo tipo. Perché, aggiunge ancora Nardella, se non la fa il governo saremo noi a spingere. Sull'incidente stradale mortale di Firenze ha parlato anche il Presidente della Regione Toscana, Gianni. Siamo arrivati, dice, anche a provvedimenti legislativi in Consiglio regionale, ma è evidente che occorre andare ancora oltre. Ci vuole una legge nazionale che ponga i riders fra i lavoratori con tutte le tutele del contratto nazionale. Ed è morto nei giorni scorsi all'ospedale di Careggi il detenuto 26enne originario del Marocco che a settembre aveva tentato di togliersi la vita impiccandosi con un lenzuolo all'interno della sua cella nel carcere fiorentino di Sollicciano ed era stato soccorso dagli agenti penitenziari. Era stato trasportato con urgenza in ospedale dove è rimasto in coma farmacologico per diversi giorni fino alla morte. In suo ricordo il cappellano di Sollicciano, Adolf Vincenzo Russo, e l'imam di Firenze, Izzedin El Zir, promuoveranno un momento di preghiera domani alle 19 a Casa Cacciolle. Da oggi fino al 9 ottobre in numerose città Amnesty International Italia scenderà in piazza in solidarietà con le persone che stanno manifestando in modo pacifico in Iran per chiedere rispetto dei diritti umani, verità e giustizia e fine delle norme discriminatorie. A Roma l'appuntamento è per mercoledì in piazza del Campidoglio e per quanto riguarda la Toscana a Viareggio scenderanno in piazza il 6 di ottobre alle 17 a Belvedere delle Maschere e invece l'otto a Pisa. È stata ripristinata alle 6.50 la regolare circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Arezzo che nelle primissime ore del mattino ha subito modifiche, cancellazioni e ritardi di alcune corse regionali a causa del guasto avvenuto questa notte tra Arezzo e Montevarchi di un treno-cantiere di una ditta appaltatrice che stava eseguendo lavori di rinnovamento dei binari. Durante le operazioni per liberare la linea dal treno-cantiere è stato svolto un servizio con autobus sostitutivi a cura di Trenitalia. Da filiale di banca della Cassa di Sparnio di Firenze ad una Escape Room tecnologica aprirà il 7 di ottobre. è la novità a Firenze, in via Francesco Baracca. I due piani dell'immobile infatti sono stati trasformati in 5 stanze cosiddette di fuga su oltre 250 metri quadri. Si va dall'Inferno di Dante all'area dedicata agli amanti della scienza e dell'ufologia. c'è anche lo Psycho Hospital, cioè un ospedale psichiatrico abbandonato che nasconde misteri. E poi la scuola di magia dove bisogna riuscire a fuggire da una foresta proibita. E poi c'è la fuga da Atlantide, una stanza dove si potrà partire a bordo di un sottomarino sovietico Nautilus alla ricerca dei segreti che la misteriosa città ancora nasconde. E si è concluso, dopo un anno e mezzo di lavoro, il rilievo in 3D di Palazzo Pitti a Firenze, interamente riprodotto ad alta definizione in ogni dettaglio. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Gallerie degli Uffizi e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze. È la prima volta che un complesso antico così vasto e articolato viene integralmente riprodotto in 3D. Ora veniamo alla previsione del tempo per domani in Toscana, sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento la mattina nella bassa maremma, i venti sono deboli, i mari poco mossi e infine le temperature minime in calo e massime quasi stazionarie con punte di 24 e anche 26 gradi. Ed è tutto per questa sera, grazie per averci seguiti, arrivederci e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.